Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Con questo primo video del nuovo anno, del 2024, voglio ricordare e mettere in evidenza alcune iniziative e opportunità che il Comune ha messo in campo in questo periodo. Si tratta di quattro iniziative, vabbè, di una nota di servizio, chiamiamola così, che ho il piacere insomma di comunque ricordare, anche se diciamo sono tutte presenti sul nostro sito istituzionale, sui canali social e magari anche con delle locandine in giro per il Paese. Cominciamo subito dal bando laureati, bando laureati 2023, è un po' una novità, si tratta di un riconoscimento che l'amministrazione vuole dare a quei ragazzi e quelle ragazze che hanno concluso appunto lo scorso anno il loro ultimo importante ciclo di studi, che sia laurea triennale o specialistica. Il bando a termine, a scadenza, è il 19 gennaio, quindi insomma è prossimo, è fuori da un pochino, quindi insomma spero che chi si è laureato nel 2023 l'abbia già visto e si sia già iscritto. I moduli per l'iscrizione sono comunque sul sito del Comune, è sufficiente a legare la propria carta d'identità e un abstract della propria tesi che verrà poi conservato nella nostra biblioteca. Il secondo bando che voglio ricordare è quello del servizio civile che si rinnova come ogni anno e interessa i ragazzi dai 18 ai 28 anni che per 12 mesi abbiano voglia di mettersi al servizio della propria comunità. Siamo alla ricerca come comune di quattro figure, due che riguardano i servizi educativi e due che possono essere occupati in biblioteca e anche la Croce Bianca è anche lei alla ricerca di figure, di quattro figure da poter inserire nel loro importante gruppo di lavoro. Si tratta di 25 ore settimanali, ricordo per un compenso di 507 euro, 507,30 per la precisione. Ci sarà un incontro appunto di presentazione dei progetti sia da parte del Comune che di Croce Bianca in biblioteca il 23 gennaio alle ore 18. Per qualsiasi tipo di informazione vi potete rivolgere comunque ai nostri servizi sociali. Terzo bando che voglio ricordare è quello del commercio, bando già conosciuto anche questo che abbiamo voluto ripristinare con le possibilità economiche che abbiamo a disposizione. È aperto alle strutture commerciali sia di nuova apertura che quelle già esistenti e scade il 29 di febbraio. La presentazione delle domande scade il 29 di febbraio. Per tutte le info necessarie ci si può rivolgere comunque all'ufficio commercio del nostro Comune e il bando comunque è presente sul sito del Comune con tutti gli allegati necessari. Un'altra opportunità che voglio segnalare è quella che sta cercando di allestire il centro provinciale istruzione adulti Mantova che è il CPIA che come sapete ha sede a Quistello ormai da un po' di anni e che si occupa di un importante, svolge un ruolo importante che è quello di istruzione per il conseguimento della licenza di scuola media, come si chiamano io, comunque di scuola primaria di secondo grado. Si tratta quindi di un corso di inglese che vogliono organizzare di 20 ore, un'ora a settimana nel pomeriggio, tardo pomeriggio piuttosto che verso sera e che si svolgeranno appunto all'interno dell'istituto comprensivo Gordi in via Salvatore Allende. Per info potete rivolgervi appunto all'istituto da lunedì al venerdì dalle 14 alle 19.30. Quindi anche questa è un'opportunità visto che ormai l'inglese è la lingua che governa tutto. Un'ultima invece annotazione che voglio segnalarvi che riguarda un pochino i lavori del centro storico. Allora dal 22 gennaio cominceranno ufficialmente in piazza Semeghini, la ditta che farà i lavori ci ha comunicato che in quella data comincerà ad allestire il cantiere. Quindi come è stato già anche ampiamente illustrato nell'ultima riunione sull'argomento, si partirà appunto da piazza Semeghini e dal lato fronte biblioteca, la strada appunto fronte biblioteca. Il mercato settimanale quindi naturalmente verrà spostato e si è trovato un punto di equilibrio riportando tutto il mercato dal Bar Marchesi verso il municipio e occupando anche via 4 Novembre che è comunque una via destinata ad area mercatale. Naturalmente via 4 Novembre fino all'inesco di via Fratelli Cairoli. Proprio in questo tratto quindi vi ricordo che è opportuno che il giovedì dalle 7 alle 15 non si parcheggi, pena la rimozione forzata che poi insomma è a carico del proprietario dell'auto. Quindi ve lo ricordo perché è importante. I cartelli sono stati affissi e quindi mi raccomando cercate appunto di rispettare questa indicazione. Avremo ancora il mercato come adesso in questa distribuzione anche il prossimo giovedì e poi da quello successivo in poi bisognerà insomma ridurre l'area appunto per il compromesso che si è raggiunto per poter mantenere il mercato in piazza e questo è stato. Niente io vi auguro una buona serata e alle prossimi e prossimi aggiornamenti.